ed eccoci qua grandissimi per un nuovo fantastico molto breve video sono in compagnia di pedrone lo squalone che qualche mi gira in mezzo ai piedi nato il 4 luglio ovviamente non mi sto riferendo né al libro nemmeno al film con il fantastico tom cruise film dell 89 credo e nemmeno al giorno dell'indipendenza americana ma parliamo di questi cinturini o meglio dei cinturini che io utilizzo e anche soprattutto soprattutto amente dei nato anche se questo per realtà un nato vero e proprio non lo è comunque li andiamo a vedere insieme andiamo a scoprire un po quello che io metto che installo sui miei orologi ovviamente avremo anche un esempio diretto con questo fantastico calamai g50 freccia visto che dobbiamo fare un esempio tanto vale usare uno degli orologi più belli che ci sono e quindi già che ci siamo perché scelgo il cinturino nato cinturino diciamo in nylon soprattutto per quella che la stagione estiva innanzitutto voglio dire per una questione di comodità il cinturino nato comunque cinturino in nylon che sia un perlon che sia uno zulu che sia un nato single pass che sia un vero e proprio nato un nato militare quello che volete è molto comodo al polso e traspirante non vi fa sudare anche molto eugenico perché lo prendete lo lavate ma i suoi vantaggi non sono finiti certamente qui comunque oggi vedremo anche cinturini in gomma di svariata natura e tipologia diciamo che il denominatore comune che mi fa scegliere i cinturini il fatto che si possano lavare io devo avere oggetti lavo gli orologi lavo anche i cinturini e poi li vado a mettere via quando ho finito di utilizzarli il nato offre però anche un altro vantaggio davvero molto comodo soprattutto per chi come me di orologi ne ha tanti il fatto che rimane solo la testa dell'orologio ed è molto facile e semplice da mettere via oltretutto garantisce una grande sicurezza perché ovviamente abbiamo entrambe le spring bar che vanno a sostenere quello che è il la fascia di nylon o di tessuto qualsiasi quello che volete quindi capite che se anche una delle due dovesse venire meno abbiamo sempre l'altra questo è uno dei motivi principali per cui il nato è sempre stato usato in ambito militare perché attualmente è la versione di cinturino più sicura che esista dopo il vero nato quello diciamo giustissimo è saldato termicamente e non presenta ansia molle neanche in quello che è l'ardiglione quindi è un anello di metallo a cui viene saldato sopra la bandella di nylon detto questo adesso ragazzi io ve li faccio vedere nel dettaglio ne parliamo un attimo vi faccio vedere le tipologie che utilizzo e poi dopo mi direte quello che ne pensate nei commenti ve li faccio vedere subito vai che si vuole ed eccoci qua grandissimi allora partiamo intanto subito dal fare vedere questo fantastico calamai g50 freccia blu mi piaci tu a cui ho installato un fantastico cinturino che era un nato in origine poi siccome io sono un malandrino ci taglio sempre la bandella con il secondo anello che serve a tenere in posizione l'orologio perché prima di tutto non scappa da nessuna parte come vedete è saldissimo e soprattutto perché non mi piace avere più dello spessore necessario sotto al polso qui abbiamo un fantastico nato in nylon elastico roba comunque economica ma ben realizzata e secondo me dona una fantastica estetica questo orologio che già bellissimo lo rende molto leggero molto comodo il nato elastico ragazzi in estate da dipendenza e anche molto adatto secondo me a quella che è la tipologia di orologio parliamo ovviamente di un pilot ora continuiamo che vi faccio vedere anche il resto proseguiamo con un fantastico perlon che si tratta di un cinturino ovviamente sempre in materiale sintetico intrecciato questi sono perfetti per quegli orologi magari un filino vintage o anche un po' eleganti dove il nato magari va a stonare essendo un prodotto molto molto sportivo quindi qui abbiamo questo fantastico perlon ovviamente si può regolare la lunghezza si possono cambiare le fibbie ce ne sono di più belli meno belli costano una fischiata questo devo dire di qualità secondo me più che discreta e fa la sua bella figura continuiamo con un'altra tipologia me assai gradita parliamo sempre di un cinturino diciamo nato ma un nato single pass anche questo quindi un solo passante che però ha questa particolare fibbia quindi vedete potete regolare la lunghezza dello spezzone ovviamente l'orologio andrà messo in questa posizione qui si va a chiudere e regolandola potete logicamente visto che potete allungare o restringere questa bandella andare a determinare la lunghezza sul polso di quella che la parte eccedente molto molto comodi e funzionali e secondo me anche molto belli adesso continuiamo con i prodotti in gomma che solitamente utilizzo partiamo dal isoframe cinturino in gomma estremamente professionale estremamente tecnico adatto soprattutto ai diver un po' muscolosi e golosi prodotto che costa una barca di soldi perché siamo nell'ordine dei 130 140 euro sostanzialmente eterno poi vi ho voluto portare il mio modello nero che possiedo da qualcosa come 15 anni infatti ha ancora la fibbia vecchia per chi lo ha notato guardate qua io non l'ho portato tantissimo ma il materiale vi assicuro che esattamente come nuovo continuiamo con un'altra tipologia fantastica comodissima si lavano si possono installare su qualsiasi orologio perché il tropic sostanzialmente sta bene con tutto qua abbiamo un prodotto sicalt blu che avevo montato su calamai g50 che poi è sostituito per la stagione estiva con il nato elastico anche questa ottima qualità della gomma ottimo prodotto costa circa un'ottantina di euro qua potremmo un po' discutere sul fatto che rivalga o meno visto che il tropic ne costa 100 però vi posso assicurare che è un prodotto che tanti di voi già conoscono dalle altissime qualità continuiamo invece con un cinturino molto interessante anche questo perché si ha il materiale che è molto simile a quello del nato ovviamente è un pochino più spesso questo è un semplice cinturino in tessuto che si va a installare ovviamente con delle barre anche a sgancio rapido volendo ed ha la comodità del nato ma senza passare sotto l'orologio ovviamente è come avere un cinturino normale quindi capite bene che qui voi togliete il nato e avete solo la testa dell'orologio anche per riporlo lì no avete comunque due spezzoni attaccati concludiamo con un qualcosa di veramente furbissimo che ho scoperto da poco tempo parliamo di questo prodotto deluxe questo è un cinturino in gomma di qualità estremamente alta con sgancio rapido che per serrarsi utilizza semplicemente l'elasticità del metallo quindi questo pezzo di metallo questa linguetta che vedete qua sotto funge da molla e una volta in posizione va a serrare quella che è la chiusura del bracciale del cinturino come vedete qui abbiamo questa sorta di doppia deployant fuori per la micro regolazione il cinturino in gomma va tagliato di misura però vi viene fornito anche uno spezzone in più costa una fucilata siamo nell'ordine dei 180 euro sono tantissimi la qualità è comunque elevatissima però dovete esserne abbastanza convinti ora voi mi direte ma non hai messo neanche un cinturino in pelle no ragazzi io la pelle la tollero solamente sugli oggetti estremamente eleganti perché mi piace avere prodotti che posso lavare in qualsiasi momento e quindi la pelle anche no grazie per il momento poi negli anni magari cambieranno i gusti cambieranno anche le esigenze comunque questo calamaio è di un bello fuori misura ditemi anche poi nei commenti come sta con questo fantastico nato elastico ma che roba come si tira blu con la riga bianca adesso direi di tornare per quelle che sono le conclusioni grandissime ed eccoci tornati grandissimi come avrete potuto vedere ci sono tante tipologie queste sono quelle che io scelgo non vi ho non vi ho voluto mettere appositamente i tropic ma vi ho messo sic alte perché su sic alte tropic secondo me bisognerebbe fare un video dedicato per mostrare quelle che sono le differenze tra i due tipi di cinturini perché secondo me ci sono un pochino di cose da dire e non vorrei tanto sbilanciarvi ma ce n'è uno che secondo me costa un pochino troppo sulla frase costa un pochino troppo è arrivato pedrone vi faccio salutare anche qui da questo fantastico moschettiero nero dimmi qual è il tuo preferito dimmelo allora a te piace il deluxe nero ma non avevamo dubbi poi qualche cosa altro dimmi un po' anche l'isofrain nero a te basta che siano neri pese ti piacciono tutti ragazzi vi ripeto per me sono cinturini molto comodi molto pratici si lavano sono igienici sono comodi sono leggeri vi trasformano l'orologio a me è sempre piaciuto giocare con quello che è il tipo di cinturino per cambiare anche identità sostanzialmente al prodotto io cari amici vi ringrazio vi invito a iscrivervi al canale seguirmi anche sulla pagina instagram entrate nel gruppo telegram discutiamo di queste cose ormai c'è una natomania e siamo partiti nato 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 per tutti i gusti infatti il mio caro amico federico devo dire gran maestro gran visir del nato piccola cosa che mi permetto di dire a tutti quanti qua vi ho fatto vedere dei prodotti io solitamente tolto ovviamente isofrain deluxe, sikalt tutte le cose firmate diciamo che vanno acquistate dai loro siti o su amazon dove volete il resto io lo compro su aliexpress non aver donna di dirlo questi prodotti qui che trovate su amazon magari anche a 20-25 euro su aliexpress li trovate a 6 euro è la stessa cosa provate un pochino di qua un pochino di là io link affiliati non ne metto perché grazie al cielo ancora alla spesa la faccio benissimo quindi andate lì provate guardate anch'io ho fatto prove costano tutti molto poco trovate magari prodotti un pochino meglio un pochino peggio questi secondo me è roba abbastanza giusta ma ogni volta è diciamo un mezzo terno all'otto quindi sentitevi liberi provate sperimentatevi divertite anche in questa maniera diversamente io non saprei neanche bene come indirizzarvi tolto ovviamente i prodotti diciamo griffati che trovate sui loro siti e per quello che riguarda deluxe isoframe si calte e tropic io ci metto sette zampe sul fuoco e roba da mille una notte che non ci si sbaglia mai noi ragazzi ci vediamo per un'altra serie di video veramente giustissimi saranno video anche un pochino piccanti perché io ho promesso un confronto tra Seiko e Zenit e lo facciamo lo facciamo anche se ci sono state polemiche ma io ho tutti e due gli orologi sono miei quindi lo faccio lo faccio secondo me ci sta perché potrebbe venire fuori anche qualcosa di interessante faremo farò anche un altro video ovviamente dove andremo a parlare dei tristi consigli di chi non ce l'ha fatta perché purtroppo questa è una passione dove bisogna farcela e per farcela intendo essere contenti c'è purtroppo chi continua a meditare ma non ce la fa avere un bel sorrisone questo è un peccato parleremo anche di quello solita presentazione di bombe a mano incredibili perché sono un pochino curioso adesso che è venuto caldo mi piace anche andare in gioielleria perché c'è molto fresco quindi oltretutto mi va dall'idea di orologi e sto lì in compagnia al fresco detto questo Pedro non l'avete visto noi ragazzi ci vediamo domenica evito di dirvelo solite bombe a mano se riesco già sabato vi preparo un bel dolcino per la sera come sempre è stato un piacere ciao ragazzi ciao